Ecco, la scuola italiana ha fatto dei progressi straordinari, pionieristici rispetto al panorama europeo, di cui dobbiamo essere orgogliosi, che dobbiamo ricordare che oggi diventano il nostro patrimonio di responsabilità in questo particolare momento storico. Vi ricordo due momenti importanti. Il primo, quello in cui si è superato il concetto e lo strumento della classe differenziale. Chi appartiene alla mia generazione ricorda quest'idea che i bambini che avevano, diremmo oggi, bisogni educativi speciali perché si trovano o si trovavano in condizioni o per patologie o per disagio o per difficoltà di apprendimento venivano classificati in una tipologia di alunni che non doveva e non poteva stare insieme agli altri. E la classe differenziale è stata superata in Italia nel 1971. Sono tanti anni. E' stata la senatrice Falcucci, quindi una collega, se posso dire, pionieristica nella visione e nell'azione legislativa e poi nel 1977 c'è stato un provvedimento che ha definitivamente superato questa fase.